La ricerca 4.0 è semplice. Su l'ordo superiore dello schermo vediamo la Face Bar. Siete le singole fasi di un restauro, disposte da sinistra a destra, nella sequenza logica secondo la quale si svolge il processo. In basso vediamo lo Step Menu con le opzioni e le attività per ogni fase. Nella schermata iniziale abbiamo la possibilità di aggiungere un nuovo paziente, di selezionarne uno esistente o di dare tutti i pazienti. Se facciamo una ricerca con il nome di un paziente, facciamo clic sul nome, vediamo quali restauri sono presenti per questo paziente e ne apriamo uno. La fase Administration. Qui definite le tipologie di restauro. C4.0 consente di eseguire diversi restauri in ogni caso. L'Ase Administration è seguita dalla fase di Acquisition. Le immagini vengono registrate con la telecamera indorale. Su Inferiore vediamo diversi gruppi di immagini, per esempio macellare inferiore, maggiore ed entrazione buccalbite. A tipo di progettazione, qui possono essere visualizzati anche altri gruppi di immagine. La fase Model. Nella fase Model, sul bordo inferiore dello schermo, sono visibili i denti attivi e, per ogni dente, lo step menu possibile. È possibile perfezionare la progettazione. Lungo il bordo destro dello schermo è riportata la Side Panel, col quale possiamo modificare le diverse opzioni di visualizzazione, per esempio, impostando la trasparenza degli oggetti. Viene eseguita tramite la cosiddetta Tool Wheel. Si passa alla fase di Meal. Nella fase di Meal, sempre tramite la Tool Wheel, possiamo modificare la posizione dell'oggetto nel blocco, ad esempio, per modificare la colorazione o per cambiare il punto di attacco del restauro al blocco, in base alle nostre preferenze. Una volta completate tutte le fasi della progettazione, è possibile avviare il molaggio.